Padre figlio e manette ariesi per coltivazione di cannabis indica li hanno arrestati i carabinieri. Si tratta di Giuseppe Palma, 61 anni, e di Andrea Palma, 34. Quest'ultimo deve rispondere anche di porto abusivo di arma comune da sparo. Nel corso di un servizio preventivo svolto nelle campagne dell'Ariesino, in Contrada Cipolla, i militari sono stati attirati dalla presenza di un particolare sistema di irrigazione che serviva a una piantagione di colore particolare all'interno dei mandorleti della proprietà dei due congiunti. I carabinieri, dopo un apposito servizio di osservazione, hanno sorpreso il proprietario dello stesso intento a coltivare all'interno del fondo 13 piante di marijuana già alte oltre due metri e con le infiorescenze bene visibili e pronte alla potatura, individuando poi anche il figlio che ha confermato di occuparsi della coltivazione assieme al padre. Dopo aver esteso la perquisizione alla casa rurale, i militari della stazione di Riesi hanno rivenuto oltre 4 kg di sostanza stupefacente già essiccata e pronta allo spaccio, uno fucile con due cartucce in canna pronte all'uso di proprietà di Andrea Palma che veniva illegalmente portato in un luogo diverso da quello di legale conservazione. I due sono stati ammanettati e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria di Sena in attesa di giudizio e sempre a Riesi i carabinieri hanno arrestato Salvatore Di Prima 36 anni per coltivazione di canapa indica. In Contrada Figotto sono stati rinvenuti circa 60 piante di canapa indiana alte fino a due metri arrivate ad un ottimo livello di maturazione con foltissima infiorescenza. La sostanza coltivata, se messa sul mercato, avrebbe fruttato circa 100.000 euro di provento.